Un amore speciale e commovente, quello tra Hawkeye, un Labrador Retriever, e John Tamilson, soldato americano, morto in guerra. John è caduto il 6 agosto, insieme ad altri 36 comilitoni, durante un attacco talebano che ha battuto un elicottero statunitense in Afghanistan. Durante il funerale che si è svolto a Rockford in Iowa, la cugina del Marine, Lisa Pemberton, ha filmato la scena. Le immagini del cane steso sul pavimento accanto alla bara, scosso qua e là da spasmi di dolore, evidentemente distrutto dalla morte del suo padrone, sono state diffuse via internet e hanno commosso l'America e il mondo.